I sindaci del Tirreno-Cosentino chiedono la collaborazione dei cittadini per superare l'emergenza rifiuti che sta per abbattersi sulla Calabria. Pazienza e comprensione per i disagi che potrebbero verificarsi. Questa ha chiesto alla popolazione il primo cittadino di Belvedere Marittime, Enrico Granata. Stessa cosa a Tortora dove nel fine settimana l'assessore all'ambiente Franco Chiappetta ha diffuso un corposo comunicato stampa in cui non ha mancato di esternare le proprie preoccupazioni. La Regione Calabria ha detto non premia i comuni virtuosi che si impegnano nella raccolta differenziata. In questo momento non sappiamo dove conferire la nostra immondizia, visto che lo stesso assessorato regionale all'ambiente non riesce ad individuare nuovi siti. Nonostante tutto la situazione rimane sotto controllo. A Tortora la spazzatura è stata raccolta anche questa mattina. Stessa cosa a Praia Mare, anche se il vice sindaco del comune dell'isoladino Antonio Giannotti ha espresso la sua preoccupazione. In generale su tutto l'alto tirreno cosentino la raccolta non è stata bloccata ma si naviga a vista. Scalea e Paola sono i comuni che soffrono di più. Le discariche del cosentino sono ferme, avrossano il sito di Bucita e ancora territorio off limits, visto il sit-in dei cittadini, con cui si stanno opponendo al bando della Regione Calabria, che intende portare lì giornalmente la spazzatura dei 155 comuni della provincia di Cosenza, per poi trasferirla in Olanda. Pertanto, visto il silenzio scelto dal governo Scopelliti, nonostante le richieste di cittadini, comitati e sindaci di rivedere tale scelta, per il 12 febbraio è stata organizzata una manifestazione di protesta proprio davanti al sito. Nel Catanzarese Pianopoli è al palo a causa dei danni provocati dal maltempo, mentre le vasche di contenimento di Alli sono ormai piene. Una situazione poco allegra, insomma, che sta facendo preoccupare tutti. Grazie a tutti.